Salgono a quota 176 gli attualmente positivi al covid-19 nella città di Grottaglie, portando il totale dei casi di positività registrati dall'inizio della seconda ondata a 349, con 77 cittadini ancora in attesa di tampone o esito dello stesso. A comunicarlo il sindaco Dalò sulla base di informazioni giunte dalla prefettura, dalle quali si evince la presenza di 35 nuclei familiari. Un dato, quest'ultimo, che va guardato con riferimento temporale. Infatti, dal report si deduce che dal 10 dicembre, subito dopo la festività dell'Immacolata, occasione di incontro tra le famiglie, il dato abbia subito un'impennata. Quest'analisi va per il primo cittadino tenuta in considerazione in vista delle prossime festività natalizie. Complessivamente emergono circa 35 nuclei familiari coinvolti. Perché comunico questo dato? Perché dalla documentazione trasmessa dalla prefettura, analizzando i nomi e i cognomi delle persone coinvolte, si comprende benissimo che si tratta di nuclei familiari che sono entrati in contatto tra loro e che in qualche modo sono riconducibili a un periodo che collima esattamente con la festività dell'Immacolata. Un invito dunque a voler bene agli altri che siano persone fragili o meno, augurandoci che questo Natale regali prima di tutto il senso di responsabilità. Grazie a tutti.